salve a tutti e per la rubrica l'altra faccia della medaglia di un ponte tramondi siamo qui oggi con cosimo massaro benvenuto ciao carissima alice grazie di cuore per avermi invitato saluto te e tutti coloro che ci guarderanno grazie a te per la tua disponibilità ecco ricordo per chi non lo sapesse cosimo massaro è scrittore esperto in politiche monetarie e tante altre cose ecco rinunciare il curriculum in una diretta renderebbe questa diretta lunghissima abbiamo abbiamo fatto con la pagina di ancora con il programma di non s tv all'interno di ancora italia brescia un'intervista recentemente con cosimo massaro per quanto riguarda la parte politica ed economica ma invece oggi l'abbiamo ospite con noi in merito a questa battaglia spirituale che viene appunto annunciata da molti ecco sappiamo che cosimo massaro è uscito appunto con un libro in merito di recente si parla proprio di uno scontro epocale ecco allora innanzitutto io direi una cosa che quando parliamo di combattimento spirituale spesso c'è un fraintendimento di termini e quasi come se questo combattimento spirituale fosse contrapposto a poi un'azione pratica e concreta ecco come inquadri in questa situazione cosimo ma guarda se si parte sempre bene dalle radici della creazione dove l'universo creato è dualista quindi c'è come dire un effetto sul bene e un effetto sul male cioè ci stanno due principi ispiratori questo non significa che io sia totalmente dualista però sono convinto del fatto che l'universo è tutto dualistico dobbiamo partire un po da questi presupposti perché quello l'eterno sconto che c'è tra i monisti e i dualisti è ancora in in essere chi ritiene che tutto sia un'unica essenza contro chi ritiene che le essenze siano due un po sulla scia manicheista male bene luce oscurità principio femminile principio maschile io chiarisco sempre una terza via che poi non è la mia intendiamo cioè non voglio prendere meriti che non ho che è quella del del cristo quella del cristianesimo quella che ci ha insegnato che effettivamente noi siamo uni e trini quindi uno più due fa tre fa quindi da questo punto di vista secondo me aveva ragione lui aveva ragione quindi che cosa ne è nel momento in cui però come dire viviamo in questa dimensione duale dove ci dobbiamo esprimere dove dobbiamo fare delle nostre esperienze in questo tra virgolette pianeta scuola in questa frequenza dove siamo incarnati nella nostra materialità subiamo tra virgolette tutte quelle come dire iniziative quelle azioni quelle battaglie che vengono dai piani spirituali quindi arrivato a questo punto non è che c'è quella contraposizione necessaria tra come pensano molti tra il mondo spirituale e il mondo materiale no c'è quella contraposizione tra magari il bene e il male e sia il bene e sia il male hanno una loro manifestazione sul piano terreno quindi la contrapposizione se c'è e esiste esiste tra luce e oscurità sul piano terreno e anche su altri piani quindi è quella la vera contrapposizione poi naturalmente il discorso sarebbe lunghissimo vediamo se riusciamo a approfondire qualcosa se diamo delle nozioni magari perché poi è sempre valido il percorso personale cioè qui non dobbiamo fare nessun proselitismo anzi viviamo nel periodo dei falsi profeti quindi lungi da me dall'essere un nuovo profeta assolutamente vorrei stare proprio lontano da queste etichette perché non mi appartengono però capisco sicuramente che il periodo che stiamo vivendo sono drammatici allora le persone hanno bisogno di aggrapparsi a volte chi ha uno che all'altro e non va bene questo perché il percorso è esclusivamente personale ogni anima incarnata deve fare il suo percorso poi sì occorrono dei maestri come dire anche nell'ambiente delle arti marziali occorre un maestro che ti mette nella retta guida nella retta via da un punto di vista marziale poi incominci a imparare le tecniche incominci ad acquisire certe informazioni base e poi un certo punto devi essere tu che fa il tuo percorso stessa cosa un altro esempio quando tu pianti un albero all'inizio ha bisogno di una guida di un di un ramo molto più forte come dire di un bastone che ti faccia crescere dritto quest'albero all'inizio una volta che si è inrobustito questo albero tu togli il bastone togli quei filacci quei fiocchi che avevi messo lì per legare il primo alberello piccolino una volta che si è raffossato si come dire si slancia verso la sua chioma verso la luce e con delle radici profonde verso il terreno bellissimo mi piace molto l'utilizzo che hai fatto due volte del termine radici del termine radicale perché allora di recente per chi segue il percorso dell'antroposofia come sto facendo io ecco di recente è morto un grande studioso che è pietro archiati ex sacerdote poi passato invece alla ricerca nell'ambito della scienza dello spirito e in una delle sue conferenze pietro archiati proprio sottolineava che ad esempio nel nella lingua tedesca quello che noi etichettiamo in italiano come fondamentale e in tedesco invece la traduzione letterale del termine radicale e qual è la differenza la differenza è che fondamentale si riferisce alle fondamenta quindi a qualcosa di minerale la pietra che chiaramente ha meno energia vitale rispetto alla pianta che ha le radici da cui deriva il termine radicale ecco e quindi faceva notare come ci sia una progressiva specializzazione del linguaggio no che ci discosta sempre di più da andare a scavare più in profondo io mi permetto di ampliare ad oggi che siamo nel 2022 la conferenza era precedente dicendo che questo concetto ecco ampliare questo concetto dicendo che di fatto il linguaggio sta venendo proprio manipolato in una sorta di inversione valoriale no allora la domanda a cosimo è la seguente se come dice il prologo di vangelo del vangelo di giovanni il logos in principio era il logo se il logos era dio dove abbiamo per logos ogni tipo di pensiero organizzato pensiero strutturato ecco tutta questa eh questo caos che si vuole forse ad arte mettere all'interno del linguaggio quindi all'interno della comprensione dei concetti può essere questo definito un'azione da parte di quei falsi profeti a cui hai fatto riferimento guarda bellissima domanda bellissima osservazione che mi guarda mi permette di allargare tantissime cose che naturalmente il tempo non me lo non me lo consente però sei partita ad esempio dalla citazione del vangelo di san giovanni che è quello veramente più particolare tra virgolette quello più esoterico quello che ha dei significati molto più profondi eh appunto poi il verbo si fece carne ehm il cui io tratto nel mio libro scontro cobbale nella battaglia spirituale da questo punto di vista in effetti è perché è perfettamente così come hai detto tu c'è un'inversione dei valori un'inversione del significato delle parole e quindi a volte diamo eh diamo per scontato scontate delle parole che sembrano ad avere eh ad esempio un messaggio positivo in realtà hanno un messaggio negativo inconsapevolmente utilizzando quelle parole in quel modo pensiamo di dare forza magari una cosa positiva in realtà stiamo dando forza a una cosa negativa ad un'energia negativa io faccio sempre un esempio che riporto ai miei seminari di una parola che ho aggiunto al mio libro scontro no scusami scontro cobbale usurocrazia al libro usurocrazia ho utilizzato poi una seconda parola svelata ecco quando parlo di questo termine in particolar modo faccio comprendere questo passaggio quando ad esempio faccio una domanda a tutti e bene o male mi rispondo tutti nello stesso modo il termine apocalisse cosa significa tutti la maggior parte chi lo sa mi risponde rivelazione certo ecco rivelazione a parer mio non è un termine corretto perché ehm cosa significa significa rivelare cioè ricollocare un ulteriore velo su una verità che è sottostante quindi come dire abbiamo messo un secondo velo su quella verità che volevamo far uscire fuori quindi il termine più corretto a parer mio è svelare cioè quindi poi c'è una verità e togli il velo quindi sveli mostrando una verità ecco in questo caso quando utilizziamo delle parole che hanno un significato in realtà non proprio positivo e tu dai energia a quella parola che diventa forma e si concretizza perché anche noi siamo forma pensiero cioè il pensiero che diventa forma naturalmente qui mi discosto da tutti eh coloro che hanno nel pensiero moderno che si sfocia pure anche nella fisica quantistica un po' anche un po' se vogliamo in parte anche a volte la new age quando ti vengono a dire che tu sei il creatore tu sei dio e quello che pensi lo concretizzi qua c'è veramente il filo è molto sottile cioè dell'inganno perché noi non potremmo mai dire che noi siamo dio siamo il creatore noi possiamo dire che siamo i co creatori insieme a dio cioè siamo uno strumento che attraverso il padre eterno il creatore possiamo manifestare anche la nostra creazione e questo è vero e come dire e quelle persone che lavorano dalla parte del male che sono molto esperte di queste tematiche sanno come influenzare il pensiero sanno come influenzare la coscienza sanno come influenzare le parole che noi utilizziamo per far sì che ci utilizzano come generatori batterie tra virgolette se vogliamo di quella realtà che loro vogliono che non è la nostra realtà che vorremmo però ci influenzano ci influenzano nella coscienza attraverso la paura attraverso tanti meccanismi che utilizzano mass media ingegneria sociale veramente tantissime cose però se uno ha delle basi forti nel capire e consapevolizzare da dove vengono queste queste energie queste forze allora in quel caso ha delle forti radici che riesce a mantenere la sua posizione ben dritta stabile anche in una bufera e dove si trovano queste radici appunto nel consapevolizzare nel capire un po come dire l'ordine naturale delle cose l'ordine naturale delle cose e ripeto è sempre un percorso personale la mia è anche una crescita parallela a quella che ho fatto in tutti questi anni nelle tantissime cose che ho fatto quindi è stato sempre un qualcosa che mi ha seguito allora io sono passato anche da un certo punto di vista quando pensavo erroneamente dico che magari dio era l'universo no per dire e io sono passato poi un altro concetto perché lì poi si va un po' nell'ognosticismo e anche un po' nel panteismo sono passato al concetto del creazionismo cioè cosa si pensa nel creazionismo che esiste un dio al di fuori della creazione e questa cosa qua ti stravolge completamente tutto perché nel momento in cui questo dio che se vogliamo è al di fuori della creazione ma è anche contemporaneamente anche lui la creazione intendiamo perché ha creato ti vengono a fare la domanda oppure tu non potrai mai dire chi è dio perché ti dicono cosa è dio cos'è il padre eterno ma nessuno potrà mai risponderti a questa domanda perché nel concetto anche creazionista dio è l'incommensurabile c'è il sempre eterno e il passato il presente il futuro e quindi è una cosa talmente infinita una coscienza talmente infinita che per l'uomo limitato nella sua vita terrena è inconcepibile a quel punto nessuno ti potrà portare alla prova che di resiste il dio o il padre eterno è un sentimento è un sentire è una vera fede è un atto di fede appunto o se benedetto che ce l'hai oppure devi fare un percorso e trovarla quindi a questo punto che cosa dice anche nel vangelo di san giovanni il verbo si fece carne quindi questa coscienza questo pensiero si è manifestato nella creazione quindi non c'è una cosa staccata il creatore con la creazione c'è c'è un filo continuo che si realizza ma questo vale anche per il vecchio testamento e luce fu per dire sia vediamo sia il verbo che la luce alla fine sono vibrazioni e io ricordo sempre i miei seminari che la vibrazione è un'onda certo tutto è un'onda nell'universo e l'onda in automatico ti porta al dualismo perché l'onda c'è l'alto e il basso il bene il male la luce l'oscurità il principio femminile il principio maschile e perché deve essere tutto dualistico nell'atto della creazione nel momento in cui c'è la creazione perché esiste una legge che è universale che esiste per tutti che è la legge del libero arbitrio e quindi se c'è questa legge del libero arbitrio in automatico ci devono essere i due principi ispiratori c'è il male e il bene e la luce oscurità il principio femminile in principio perché noi dobbiamo essere in grado di poter scegliere se non ci fosse il dualismo noi non potremmo scelta che cosa scegliamo se non abbiamo una parte o l'altra possibilità e quindi non mette in atto il dualismo cioè scusa non mette in atto la legge del libero arbitrio ecco a quella poi c'è un'altra legge equilibratrice che nel mondo orientale viene chiamata quella di causa effetto ma poi quando studiamo e approfondiamo il nostro cristianesimo cosa che veramente abbiamo perso in tutti questi anni ti rendi conto che questa stessa cosa l'ha detta Gesù Cristo cioè chi di spada ferisce di spada perisce cioè ciò significa che ad ogni azione che tu fai e ne riceverai una come dire una reazione uguale e contraria con tutti gli interessi quindi se qualcuno fa del male state sereni state tranquilli quel per quella persona che ha fatto veramente del male state sereni che pagherà per tutto il male che ha fatto perché esiste quell'altra legge di contrapposizione quindi alla fine e le cose devono andare per come devono andare se uno si muove nel flusso delle cose benissimo benissimo ecco adesso mi viene una domanda dalla tua ultima considerazione cioè che di fatto non si non si sfugge da queste regole da queste leggi fondamentali ecco della del creato e si può dire del creato in questo in questo anno nessuno può sfuggire da queste leggi nessuno nemmeno l'uomo più potente del mondo non potrà sfuggire nessuno ecco e quindi dovremmo avere di fatto anche di fronte ad avvenimenti sempre più preoccupanti come si stanno susseguendo eh ultimamente un atteggiamento di speranza di positività mentre invece eh noto come eh da parte di diciamo sul piano terreno da parte di alcune organizzazioni ecco eh alcune alcuni gruppi di persone eh sul piano spirituale boh eh potrei dire che di fatto eh da che si parla di spiritualità tantissime tradizioni hanno parlato di forze estranee che si insinuano nella nostra mente può essere il diavolo può essere il doppio in antroposofia può essere il volador di Castaneda ecco comunque di fatto ci sono queste entità che tendono ad agire sul nostro pensiero sul nostro modo di percepire le cose in maniera tale da suscitarci dei sentimenti invece negativi di disperazione di rabbia di paura ecco ehm vorrei un attimino eh andare a fare un excursus con te e magari di queste tradizioni di come hanno visto questo aspetto queste tradizioni e e e magari ecco darci eh dei dei consigli su come approcciare questo questo tipo di realtà questo tipo di alterazione del pensiero prego guarda eh Alice anche questo è un elemento molto importante che bisogna affrontare in un certo modo eh e con degli studi anche appropriati con delle ricerche appropriate che ti preparino appunto a questo livello tra virgolette di battaglia che poi non deve essere una battaglia con un nemico io lo identifico non il nemico l'avversario cioè l'avversario fondamentalmente ha anche un ruolo è colui che mette a nudo le tue debolezze quindi come dire se vogliamo ha anche un ruolo eh nel mondo castanediano ad esempio li chiamavano gli alleati o oppure per chi non li sapeva come dire utilizzare i i classici voladores no che eh sono delle entità negative che riescono a influenzare l'uomo attraverso la sua mente diceva Don Juan a Castaneda la tua mente non è la tua mente è la mente del del volador è la sua mente che cerca di distillare in te quelle come dire quelle paure cerca di distillare in te quei modus operandi tipico del del predatore no eh oppure del del predatore o dell'essere predato allora eh siccome queste entità negative si nutrono delle paure degli esseri umani loro le istillano apposta queste paure per generare appunto quei sentimenti di paura rabbia terrore ansia di cui loro si nutrono però sapevano bene anche che eh nel momento in cui l'uomo cresceva si evolveva spiritualmente e magari era centrato con un ovulo energetico ben protetto loro non potevano nemmeno avvicinarsi all'essere umano evoluto quindi cosa il loro schema qual era quello di distillare appunto le paure fallo scendere nelle basse energie nelle basse frequenze per non fargli crescere l'energia luminosa tipica dell'essere umano luminoso ma tenere le sue energie sempre basse tipo un prato un prato rasato non totalmente azzerate perché poi l'essere umano sarebbe morto e loro non si sarebbero più alimentati e non tanto da farla crescere in modo tale che loro non si potevano più avvicinare questa era un po' la tecnica che utilizzavano le entità negative espresse un po' dalla storia raccontata da Castaneda degli sciamani toltechi indiani però dobbiamo tenere presente una cosa che comunque fondamentalmente uno ci può credere o non crede l'archetipo base sempre quello per tante sculture per tutte le culture c'è un principio che magari viene rappresentato dal negativo nella cultura giudaico cristiana dai demoni lì magari venivano rappresentati come voladores nella cultura greca si chiamava si chiamavano gli arconti cioè ogni cultura ha avuto che ha avuto sempre comunque un collegamento col trascendente ok è fondamentale non erano certo atei questi popoli da sempre in maniera millenaria l'uomo ha avuto sempre un collegamento col trascendente e gli archetipi base di questo pensiero appunto sono comunque c'è stato un principio come dire positivo da un lato un principio negativo dall'altro rappresentato con i vari nomi a questo punto noi capendo come funzionano effettivamente queste cose anche la semplice storia quella cattolico cristiana che parla della ribellione di lucifero no possiamo raccontarle in maniera metaforica perché poi ogni linguaggio deve avere come dire è stato espresso da tanti sapienti nel passato con le nelle maniere giuste in cui gli uomini di quel periodo storico potevano capire quindi noi dobbiamo cercare anche di interpretare queste cose non prendere a volte tutto alla lettera però capire i significati che stanno all'interno di un di una storia gesù cristo stesso parlava per parabole ok poi parlava per parabole a uomini più semplici e poi parlava in maniera molto più tecnica se vogliamo a persone che erano in grado di capire maggiormente i suoi messaggi quindi anche lui parlava con varie tipologie di ma e la storia ad esempio archetipica quella di lucifero è quella che il più grande bello e forte angelo di tutto il firmamento a un certo punto si ribella a dio no dice ma se tu hai fatto il tuo mondo allora anche io voglio fare il mio mondo è venuto sulla terra e si è realizzato il suo mondo dio se l'avesse voluto come dire liquidare l'avrebbe fatto in un nanosecondo cioè perché cosa poteva anche il più bell'angelo il forte angelo nei confronti di nulla è come una formica nei confronti di un uomo l'ha lasciato operare però gli ha detto va bene tu opera fai quello che devi fare che vuoi fare però tu alla mia creatura non gli devi intaccare il concetto di libero arbitrio quindi questi signori anche che stanno sulla terra che fanno del male anche consapevolmente la maggior parte soprattutto l'elite perché tanti magari stanno nell'ingrenaggio e non si rendono nemmeno conto a volte le verità ce le devono spiattellare in faccia da tutte le parti e ce le dicono le verità stanno in tutti i documenti hanno pubblici quindi questa cosa ti fa capire che c'è sempre il libero arbitrio di ognuno di noi che sta nel fatto di voler andare a ricercare una verità la verità vi renderà liberi disse anche lì Gesù ma la verità ricerca impegno costanza nell'impegno un lavoro che non è se e se vuoi trovarti le verità noi non andiamo a trovare verità in archivi segreti chissà dove cioè vai ad esempio il World Economic Forum è tutto pubblico basta andare lì nel loro sito leggere i loro libri e troverai tutto quello che i progetti che stanno facendo verrebbe quasi da dire che hanno quasi gusto esplicitare i loro progetti quasi affinché noi poi diamo l'energia perché questi si realizzino no sì allora non è che hanno gusto hanno il dovere cioè loro hanno il dovere di mettere le verità e di dichiararle a quel punto se interviene il tuo libero arbitrio nel volerla andare a cercare o no se per preghizia non preghizia perché sai questi qui naturalmente l'altro l'altra tecnica che poi si rifà anche al concetto che stavamo esprimendo prima del lavoro dei voladores loro istillano in effetti le paure cioè generano paura tutto quello che è accaduto in due anni ad esempio con il periodo pandemico che sta accadendo e ancora siamo in co è avvenuto attraverso la diffusione di una paura la diffusione poi dell'ansia la guerra cioè le continue paure in questo modo noi continuiamo a generare paure rabbia rancore e il male si beneficia ecco perché se noi vogliamo essere dei veri guerrieri della luce nel senso guerrieri sulla battaglia spirituale non possiamo permetterci di combattere con la rabbia con l'odio e con tutti questi sentimenti allora bisogna combattere nel giusto con un intento puro e però non significa che tu devi trasportare dentro di te appunto quei sentimenti a bassa frequenza e qui mi ricollego ad esempio all'arte della guerra di sun su cosa diceva combattere senza combattere cioè tu devi combattere però senza somatizzare quelle appunto quelle ansie quelle paure tipiche poi di chi dà forza agli elementi negativi e non significa quindi rimanere inermi fermi non fare nulla no perché anche gesurista ha fatto azione ok anzi l'azione è fondamentale è tutto lì che si fa la differenza tra un uomo che agisce è un uomo che non agisce perché anche dante ha messo gli ignavi li ha messi nel girone dell'inferno cioè coloro che magari sapevano e però si stavano fermi non prendevano una posizione e quindi è fondamentale prendere però bisogna stare molto attenti a non alimentare quelle energie negative che in quel caso alimentano le forze oscure quindi l'idea qual è quella di rimanere sempre ben centrati equilibrati e ripeto con una forte posizione verso il trascendente che ti collega all'unica fonte di energia inesauribile che è quella che viene dall'alto è chiaro come la luce per la pianta come la luce per la vita ecco e troviamo tutto come così tu metti il seme lì sottoterra in oscurità e se il terreno è fertile è primo elemento di forza no naturalmente deve avere un terreno fertile ma l'altro deve essere fecondato poi quel seme attraverso la luce e quindi questo continuo rapporto che c'è tra il mondo dello spirito e il mondo della terra è un continuo divenire non ci può essere uno senza l'altro nella vita in questo caso terrena è chiaro perché anche l'albero prendiamo l'albero se gli tagli la chioma non ha più foglie non ha più niente non riceve più luce dal sole e poi muore stessa cosa se gli tagli le radici e allora deve essere veramente un filo conduttore unico tra il pensiero tra la luce il mondo dello spirito e il mondo che poi si applica qui nel mondo terreno e questo è il percorso e la strada che ci fa evolvere però lì nel libero arbitrio c'è gente che uomini o anime che vanno verso un'evoluzione e tante anime per scelta e libero arbitrio vanno verso l'involuzione quindi quando semplicemente cos'è tra virgolette quel come dire quell'inferno metaforico rimanere radicati nelle basse frequenze le basse frequenze dell'odio della paura tutte queste cose qui ti portano verso la terra la terra ad esempio è un'energia a bassissima frequenza ecco perché dante aveva collocato l'inferno sotto terra invece la luce è un'energia ad altissima frequenza quindi è una scelta nostra poi di fare un percorso oppure un'altra attraverso le decisioni che noi prendiamo punto ecco quando parli di libero arbitrio no e quindi della possibilità che ha ciascun individuo di scegliere quale percorso fare si rende secondo me particolarmente evidente eh l'importanza del lavoro eh di crescita personale ecco perché eh in questo senso si contestualizza davvero eh il fatto che prendersi la responsabilità di intraprendere un certo tipo di cammino allora è estremamente funzionale all'azione che poi andremo a svolgere in un contesto sociale perché un'azione che ha un carattere piuttosto che invece il suo carattere opposto avrà un effetto di una polarità o dell'altro opposto della stessa polarità giusto? Assolutamente sì qualsiasi decisione può avere una eh un'influenza in un dato momento e però poi vedi ora questa tua domanda o questa tua affermazione mi porta a a riflettere un po' a volte cos'è il male il bene perché poi non si riescono mai a come dire a fare un taglionetto cioè qua c'è proprio tutto il bene qua c'è tutto il male cioè le cose devono essere sempre come dire contestualizzate no? Faccio un esempio a volte molto estremo per far capire questo concetto mettiamo caso che eh c'è un bambino piccolo di due anni tre anni e si vede e tu sei lì presente e vedi un uomo con un coltello che lo vuole ammazzare eh esempio estremo tremendo giusto? Cioè chi chi è che voglio dire non vorrebbe fare qualcosa no? Allora mettiamo caso che intervieni per difendere il bambino povera anima innocente nella colluttazione l'uomo che voleva ammazzare il bambino lo ammazzi esempio estremo ok? Ecco questa cosa è male o bene? Hai ammazzato un uomo però in quel caso eh vedi? Allora che cosa significa questo? L'intento di ognuno di noi è fondamentale nelle cose che si fanno cioè l'intento che parte dal cuore deve essere puro è lì che fa la differenza è lì che fa la differenza tra eh un'azione che che magari era positiva nel senso che tu stai difendendo un bambino non volevi nemmeno ammazzare quell'uomo fondamentalmente magari lo volevi anche disarmare chiaro? Non c'era quell'intento dell'odio di prendere quell'uomo e ammazzarlo allora vedi che magari una cosa fa che è accaduta che è stato anche un male eh ammazzare quella persona che stava ammazzando il bambino in quel contesto a parer mio era una cosa necessaria da fare perché è salvato un animo innocente si è intervenuto per difenderlo e poi involontariamente se vogliamo la nella colluttazione quest'altro essere umano ha perso la vita però voglio dire l'intento era puro era quindi dobbiamo capire ogni volta come devono agire questi due equilibri perché si devono riportare fondamentalmente poi c'è una bellissima eh storia anche c'ero chi che porto io riporto nel mio libro scontro globale quella l'accenno brevemente che va andando a memoria andando dice no ma tanti la conoscono fino a un certo punto perché però veramente questa storia poi continua il nipotino chiede al nonno e dice senti ma cos'è il male e il bene e lui fa l'esempio noi abbiamo all'interno del nostro essere un lupo bianco e un lupo nero che stanno in continua lotta e il bambino poi gli chiede il nipotino al al nonno gli chiede ma chi è più forte chi vince il saggio anziano gli dice a chi dai più alimento tu sei al lupo bianco o al lupo nero quindi se vince la luce o vince oscurità chiarissimo però poi però poi fa un'altra affermazione che secondo me è quella ancora più profonda e più bella ma la vera vittoria non sta nel fatto che tu dai magari cibo al lupo bianco al lupo nero che vanno in guerra e magari può vincere l'uso bianco e il lupo nero magari muore cose che come principi non potranno mai accadere la vera la vera vittoria è la pace dice e la pace tra il lupo bianco e lupo nero perché rapportandolo anche a noi a volte abbiamo quel dobbiamo sempre avere quel giusto equilibrio come anche in questo caso il cuore del vangelo ama il prossimo tuo come te stesso ha detto c'è l'amore verso il prossimo e l'amore verso noi stessi cioè non ha detto di azzerrare totalmente il nostro ego no ha detto di tenerlo nel giusto equilibrio con 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 il prossimo mi permette di fare di fare una una battuta direi nel vangelo non ce n'è anche scritto che per esempio in una ipotetica pandemia la salute del singolo anche psicologica deve essere sottomessa alla salute collettiva bravissima no no ottimo parallelismo perché qua sono andate alla follia ulteriore in effetti a questo punto che cosa accade se noi facciamo un parallelismo anche nell'indole nostra noi fondamentalmente abbiamo anche quella parte che è più data dagli istinti scientificamente sappiamo pure che abbiamo all'interno un il primo cervello che si chiama cervello bravissima che è quello che si muove attraverso gli istinti ma è quello che poi da un certo punto di vista molte volte magari ti salva la vita è quello istintivo è quello che ti magari ti fa salvare nei momenti più più pericolosi quindi all'occorrenza anche quel lato nostro dobbiamo conoscerlo capirlo saperlo domare però lo dobbiamo anche se vogliamo in alcuni aspetti magari alimentarlo per non farlo diventare troppo aggressivo no quindi dobbiamo tenerlo in un certo equilibrio ecco la vittoria sta nell'equilibrio l'io centrato cioè la nostra anima centrata che si collega verso l'alto e allora dobbiamo saper mantenere sempre gli equilibri tra queste cose ecco prima di andare in conclusione ho condiviso un commento di una persona che ci sta ascoltando marina dice il giusto equilibrio è quello del cristo la terza via quella mediana ecco intanto ringrazio chi ci ha mandato i saluti arturo marina e poi volevo magari fare un brevissimo commento su questa osservazione di marina prima di poi andare alla domanda finale prego no no e condivido pienamente questo questo commento che ha fatto marina molto bello in effetti io sono su questa posizione poi se il mio percorso evolutivo mi porterà ad altre strade non è dato saperlo per me perché non ho la presenza certamente però in questo periodo della mia vita sono su questa posizione sicuramente molto bene ecco allora eh abbiamo parlato della responsabilità individuale nel intraprendere un determinato percorso e poi di fatto la non scelta è comunque scegliere eh è comunque scegliere ecco non possiamo eh illuderci di rimanere neutrali eh assolutamente hai detto bene la non scelta pure anche una come dire crea delle situazioni magari quell'uomo avrebbe ucciso il bambino e tu saresti rimasto con i sensi di colpa per una vita poi esatto esatto perché il male trionfi basta che il bene non faccia niente eh e quindi ecco eh parlavamo di responsabilità dunque e niente di fatto eh io osservo un utilizzando un'espressione che ha usato Mazzucco prima di me eh di l'espressione in questione è bambinizzazione di stato ecco questo stato che ci considera tutti un po' come dei bambini no? Dandoci il contentino sotto il profilo materiale tenendoci buoni tenendoci tranquilli e non informandoci sui meccanismi che vanno a regolare di fatto le nostre esistenze per esempio i meccanismi che possono regolare eh se usciamo o no per esempio i nostri diritti fondamentali o se lavoriamo oppure no ecco noi non dobbiamo sapere nulla di tutto questo viene delegato agli esperti a cui dobbiamo lasciar fare e di fatto l'uomo si appiattisce sempre di più nell'inerzia ma che poi porta a dei veri e propri mostri ecco ehm delle vere e proprie larve eh eh sotto sottoveste di essere umano ecco ehm come contestualizzi tu la responsabilità all'interno della tua ricerca interiore? Allora questo meccanismo che loro utilizzano ma non viene da ora ma viene dai progetti che hanno portato avanti da secoli intendiamoci quindi sia questa cosa del del rendere del trattare l'essere umano come un eterno bambino anche per deresponsabilizzarlo nasce da molto lontano cioè io ad esempio nel mio libro scontro globale parlo eh ad esempio del periodo quando c'è stata una scissione dal tra il cattolicesimo e il mondo anglicano dove è avvenuto tutto col mondo di Lutero e soprattutto Calvino quando nasce il concetto di predestinazione già lì nasce questo concetto poi di deresponsabilizzare l'uomo perché la predestinazione ti mette sul piano di che cosa? Che tutto quello che accade sulla terra è solo esclusivamente volere di Dio sia che tu sia ricco sia povero sia povero è volere di Dio a questo punto in automatico scatta nella mente quel meccanismo che tu ti deresponsabilizzi se tutto è volere di Dio allora io non ho nessuna scelta quindi è tutta è volere suo ci siamo vada vada come vai ci siamo deresponsabilizzati come dei bambini e a questo punto per dire nasce la cultura appunto anglosasso dove nasce eh come dire uomini poi derivano uomini come Soros no? Eh dove eh ci sta eh come dire il il fare offerte al povero no? Magari per farlo sentire eh bravo buono no? Eh il filantropo il filantropo di turno è chiaro e quindi tutto questo ma non solo questo nell'ingegneria sociale si è trasmesso soprattutto a a rendere gli uomini e le donne bambini gli adulti bambini l'altro concetto che è passato è appunto quello che oggi ha portato al genderismo no? Dove non esiste più donna non esiste più uomo cioè non esiste il principio femminile esiste il principio maschile e e hanno indirizzato tutto verso la genderizzazione. Verso la femminilità. Sì perché poi da questo nasce come dire la mascolinizzazione eh del del mondo femminile e la femminilizzazione del mondo maschile. Questo l'aveva l'aveva anticipato anche Auriti in un soscritto negli anni sessanta ancora prima che nacque il termine gender perché il termine gender nasce alla fine degli anni sessanta. Cioè la cultura gender io tengo sempre a precisare non c'entra nulla con l'omosessualità eh. L'omosessualità è sempre esistita sin dagli antichi tempi passati mondo greco romano egiziano è sempre esistita. Quindi c'è stata sempre una parte quindi la cultura gender non c'entra nulla con l'omosessualità. Dobbiamo schiarire là ci sarebbe da fare ora un seminario per tutto questo che non possiamo farlo in questo momento. Però sono tutte armi di ingegneria sociale che sono funzionali al sistema per dominarci meglio insieme alle paure insieme a tutto il resto. Benissimo eh allora un'ultimissima domanda che è un po' un consiglio eh a me piace sempre chiudere eh quando ho un esperto del tuo calibro come ospite con dei consigli per chi ci sta ascoltando ecco eh quindi noi abbiamo uno scenario che ora eh oltre al problema ehm di salute al problema sanitario eh ha aggiunto anche un problema di eh sicurezza. Mi riferisco eh al recente conflitto tra Russia e Ucraina ma che poi sappiamo che coinvolge potenze su uno scenario ben più ampio. Ecco di fronte al susseguirsi di queste notizie è normale che soprattutto la persona informata ehm cada in ehm cioè è quasi razionale il fatto di aver paura. Cada proprio davvero in delle dinamiche eh che non sono quelle ehm che sembrerebbero desiderabili. Ecco quindi su che cosa può fare perno, può fare riferimento eh chi si voglia togliere da queste dinamiche ma non può fare a meno di dare di di vedere quello che sta accadendo. Come risolviamo questa diattiva? Allora anche qui è semplice a dire non è semplice ad attuarla, interiorizzarla. Io capisco benissimo che occorre un percorso di vita nell'affrontare queste cose. Io per quanto mi riguarda ho una formazione marziale, sono stato un agonista sul ring, quindi ho fatto sempre questi lavori un po' anche sul mio essere. E quindi cerco di trasmettere alcuni concetti base, no? Che appunto non è quello di vabbè sta la guerra, c'è il covid, c'è quello, tutto quello che sta accadendo, le paure che ci hanno messo. Tu che fai? Metti la testa sotto terra come gli struzzi? Non è risolto il problema, non è risolto. Perché in quel caso non metti azione, non fai niente, ti chiudi in una stanza, anzi vivi nel tuo mondo e non è la soluzione. L'altra soluzione qual è? Quella che applicano tanti. Voglio fare questo, voglio fare quello, devo andare lì. Cioè proprio presi dalle anzi, presi da tutto il loro mondo di emozioni che li sballottola come un uragano. Reggono poco pure questi, chiaro? Perché veramente non è facile. Quindi la massima di Sun Tzu, combattere senza combattere. cosa significa questo? Che noi dobbiamo analizzare quello che sta accadendo oggi nel mondo. Va bene, ora non faccio il discorso politico, la Russia, voglio stare fuori perché già ho scritto tanto. È solo un esempio, è solo un esempio. Però per dire, noi, io e te in questo momento, se dovesse scoppiare una guerra ancora più allargata, che stanno fomentando addirittura magari la guerra autome, cose che non accadranno, ma tu e io in questo momento siamo in grado di poter cambiare questa cosa qua? Direttamente no. No, impossibile. Non è che possiamo. E allora se non sei per nulla in grado di poterla cambiare oggi, quale senso a vivere quotidianamente con la paura che magari Putin oppure Biden schiacciano il pulsante della guerra per dire che sarà danno intera a tutti. Non ha senso vivere tutti i giorni con l'ansia e con la paura. È come dire che io salgo su un ring totalmente impaurito e nel momento in cui salgo... Perché potrei perdere? Perché potrei perdere? Non ha senso perché quella paura ti rigidisce, quella paura ti blocca, quella paura non ti fa tirare i pugni al momento giusto, non ti fa essere fluido. Quindi affrontare questo problema hai due strade, o con l'elemento positivo o con l'elemento negativo, dato che non lo puoi cambiare. Quindi se lo affronti con l'elemento negativo hai maggiori possibilità sicuramente di perdere e perdere principalmente tu perché ti ammali, l'ansia, la depressione, tutto. O lo puoi affrontare con serenità, con positività e sicuramente hai molte più possibilità di vincere una battaglia che alla fine rimane sempre individuale. Noi abbiamo come dire un teatro davanti che ogni volta si manifesta con attori diversi e la vera battaglia è quella che hai tu nei confronti dello scenario, del tuo comportamento che ti deve servire o a crescere oppure a decrescere. E quella è la vera battaglia. Certo e magari riuscire ad essere individualmente quel granellino o quel singolo granellino di un gruppo di granellini che poi fanno inceppare tutto. Assolutamente! E questi granellini che pian piano diffondono una nuova coscienza, un nuovo pensiero, diffondono questa evoluzione, queste anime che si stanno risvegliando, che io trovo in tutta Italia e in tutto il mondo si stanno risvegliando. C'è un risveglio di anime enorme che le forze del male stanno cercando di bloccare in tutti i modi. Ma io sono sicuro al cento per cento che loro perderanno, non potranno mai fermare questa evoluzione che oramai è partita, della coscienza. E poi concludo anche con questo. Stiate sereni perché questi sono destinati a perdere e li ho definiti sempre come? Li ho definiti che sono fondamentalmente un'intelligenza, anche se sopraffina, tra virgolette, fino a un certo punto, cancerogena. Cioè sono autodistruttivi, non hanno empatia, non hanno equilibrio. Quindi sono destinati a perdere perché nell'universo tutto ciò che rimane è quello che sta sempre in perenne equilibrio. Lo squilibrio a un certo punto viene abbattuto perché non può esistere un universo se non sta in perfetto equilibrio. Allora, Cosimo, grazie mille soprattutto per questo ultimo messaggio di positività, ma anche per tutte le importanti riflessioni di cui ci hai fatti partecipi. Ti ringrazio. Grazie a te, cara Alice. Io, niente, dico solamente a chi ha avuto il piacere di ascoltarci e chi ci ascolterà. Se mi vuole contattare lo può fare tranquillamente attraverso anche il mio blog www.cosimamastaro.com dove troverete anche il mio numero di telefono. Se qualcuno vuole ordinare qualche mio libro tranquillamente lo può fare direttamente anche con un messaggio Whatsapp. Benissimo. Ho mandato il link nei commenti e adesso appena il computer mi dà la grazia lo mostro anche in sovraimpressione. Benissimo. Poi metterò i link in descrizione. Ringrazio anch'io chi ci ha seguito, soprattutto Arturo e Marina che hanno scritto, hanno commentato e vi do appuntamento prossimamente sulla pagina Un Ponte Tramondi e Cosimo ancora grazie e spero di averti ancora presto ospite in uno dei miei programmi. Grazie a te, sicuramente sarà un piacere e un abbraccio a tutti. Ciao. Un abbraccio.